Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora preghiamo insieme con la supplica alla Madonna di Siponto. O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te, con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda a noi, tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nelle nostre fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo, Gesù Cristo, la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul tuo popolo, dona sapienza ai governanti e agli amministratori, perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa, a partire dai Suoi ministri. Rendi la segno e strumento della Tua luce e della Tua bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a te, Madre di misericordia. Accresci la nostra fede, accompagna le famiglie, rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli, preserva gli anziani dalla solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento. Intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.